oh ragazzi adesso mi mando tutti quanti da Dani ehi tutti da me facciamo un trasbordo facciamo di qua io forcerò qualcun altro non so chi farà la live cos'è sto passaggio illegale cos'è sto passaggio illegale ma guarda veramente contrabbando di spect stavo vedendo chi c'era mi è uscito lui adesso io te ti devo far togliere la possibilità di cambiare il nickname io credo di essere il miglior rapper ora non ti allarghi davide hai pensato di cosa un richiamo staff un richiamo staff non sono mai stati presi sei sicuro? no in realtà esistono ciao no no ma mi sa che ci vedi male è fatto bene andiamo tutti da Dani dai tutti da Dani belli miei tutti da Dani che sto aspettando ho detto qualificare il goal ai Dani non si fanno aspettare ah perfetto grazie 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 buonasale buonasale grazie per il polo tutti quanti grazie grazie eeeh no vabbè vabbè lo dico dopo che sta Danila che devi dire cosa che devi dire no adesso lo voglio sentire Dani dai dai sposta ci stasera oh mi hanno spostato ingiustamente Dani ui sono come va ciao mandammo a zik oh no allora scappo come stai dai sposto tutto bene tutto bene tu no diciamo sposto sposto comunque devo ringraziare un sacco di follow che appena smettono di arrivare tutti i follow poi vi ringrazio a tutti comunque ciao ragazzi mandammo a zik ciao benvenuti inchiette il primo sabato e beh certo fanci capito per forza dirlo ogni live lo dice comunque grazie per il follow grazie per il follow simo ins nico 99 flavia one was taken regist 28 28 magiche n official grazie per il follow ciao ben tornato ciao ben tornato aspetta inizia con la n e a 5 lettere ninja sei sicuro vabbè ci sentiamo dopo a dopo e c'è ragione ninja è vero la soglia l'ho insegnata io questa perfetto bene facciamo bene 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 facciamo anche white ci sta fuori qua ci sta fuori qua vediamo un po che ha appena cambiato fuori ha appena cambiato anche la live ha pure appena cambiato nome un attimo ma what no incredibile comunque non gioinavo le stanze white visto tipo 6 mesi chi se lo sposta facciamo tutti assieme facciamo un po qua tutti assieme dai raga ci stiamo in 70 qua dentro vabbè tanto sono solo due in attesa uno te lo fai veloce perchè è nuovo quindi sicuramente ha l'account fatto esatto l'account fatto 5-8 giorni fa quindi lo sistemi subito 15 anni quasi 16 quindi vediamo subito un po se ha ah è una ragazza Giorgia quindi la voce bianca è proprio diversa la situazione qua comunque no adesso lo sposta si sta Giorgia vediamo un po se ha la voce bianca o meno o troppo bianca o meno franci mi dissocio dal termine che è scritto in chat ma ha scritto tutto già sì sì sono scritto mi ho dimostrato uguale perchè ballavo al centano devo rifarla con un mod perfetto mi dispiace per te vabbè raga chi si vuole spostare ah perchè il fate si è spostato dalla ragazza cioè proprio eh hai capito Giorgia 0-1 grazie per il follo vabbè dai last game portati sto Fury sono stati veloci te l'hanno inculato Fury vediamo sto Fury hai stato rimandato per regolamento illegale vai vai spostatelo facciamolo dai ciao Fury ciao Fury come va? ciao Fury sono in live è un problema? perfetto mi raccomando di dare la console e la twitch certo perfetto adesso prego prego iniziamo allora presentati un po' parli un po' del tuo background e poi vediamo qualche domanda di farti sì allora io ho mandato ieri il background e ho deciso di intraprendere una storia in R&P di questo personaggio che è emigrato dalla sua terra grazie al follo Zeniziano benvenuto ok è stato segnato da varie eventi nella sua vita come per esempio grazie al follo 7 sticks benvenuto l'altra volta mi hai art eh? l'altra volta mi hai arrestato a te 66 eh sì ero io ero io me lo ricordo me lo ricordo sì una sintesi molto 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 sintesizzata sintesizzata pensavo che no no ma va bene è quello che voglio e cosa vuoi fare nel server? nel server voglio fare intraprendere una carriera di criminale eh ti pareva no diciamo qualche qualche cosa di criminale poi non intraprendere proprio solo la carriera di criminale magari poi se mi si presenta l'occasione anche fare altro però per il mio personaggio in questo momento per lui l'unico modo per fare soldi è quella perfetto va bene iniziamo qualche domanda eh definizione sì definizione di WDM era DM ok eh WDM è ci sta sentire le quelle io le facevo spesso poi in questi periodi ho avuto un po' di problemi a livello staff ed ho altri impegni a livello staff di impero quindi non posso fare WDM spesso finiamo la gente mi piace le sospensioni eh per esempio cosa è chiaro che il WDM può anche avere delle diciamo delle tolleranze se per esempio sei in un inseguimento con la polizia e per sbaglio investi una persona non è che ti devi fermare diciamo in quel caso è l'unico caso in cui magari è consentito per un errore investire qualcuno per sbaglio e poi continuare senza fermarsi per esempio va bene definizione di di power game si il power game è quando si fanno delle azioni che per le limitazioni che ha del gioco proprio dal punto di vista delle delle meccaniche si compiono delle azioni che non potrebbero essere compiute nella vita reale quindi posso per esempio spostare un corpo ferito magari che è rimasto a terra con smash carry e poi scalare cavalcare un muro per esempio che comunque devi considerare il peso del corpo oppure scalare una montagna troppo ripida a piedi oppure anche usare veicoli non idonei per strade sterrate quindi magari con una macchina che è di strada andare in delle strade sterrate ma l'attito ho chiesto la definizione non ti ho chiesto gli esempi ah ok no comunque l'ho detta prima giusto ripetila allora che non l'ho capita scusami quando ovviamente si abusa di meccaniche di gioco per compilazioni che non potrebbero essere compiute altrimenti nella vita reale quindi come poi ho fatto gli esempi questo intendo senti mi fai 5 esempi di power game a piedi quindi senza veicole senza altezza per esempio inizio il creatore di impero pero di fallo correre più velocemente quindi vuoi andare più veloce quindi salti però che domanda vuoi anche messina e la signora sì sì sto già chiedendo come ho detto quindi il bunny hop poi magari fare come ho detto prima scalare una montagna troppo ripeto a piedi quindi comunque comunque una cosa un po' forzata e senza veicoli hai detto e senza altezza come ho detto anche prima spostare un corpo ferito senza considerare il peso e quindi scalare magari un muro mentre stai portando magari una persona ferita appena vuole con Gianlu adesso no ragazzi dopo pensi che vuole essere sospeso eh Francis gli scatti punti di sospensione devo farlo magari sfrutto buongiorno buongiorno è normale poter utilizzare la radio il telefono mangiare bere parlare sott'acqua ti sembra tutto nella norma no non so ecco quindi di conseguenza questi sono esempi di grazie del follow umano in ramponi benvenuto che caso ha scritto pizzetta non lo so definizione di no fear no fear è quando quando tu praticamente non simuli la paura in caso se tu dovessi venire minacciato da una pistola o da qualsiasi altra arma e quindi non interpreti la paura che dovresti avere in realtà nella vita reale quindi magari ti puntano una pistola e tu magari scappi ah capito la paura insomma che dovresti avere mi fai cinque esempi di no fear senza lo so di armi o azioni illegali potrebbe cinque addirittura beh per esempio penso buttarsi da da un palazzo potrebbe essere no fear sì se tenete in real Dani non è non starebbe un secondo in che senso scusami non faresti nella vita reale no ve lo faccio bene dai poi magari che ne so farsi mettersi davanti alla strada per mettersi davanti alla strada e farsi investire magari dagli NPC per rubare la macchina cioè magari vai in autostrada e tu per rubare una macchina ti pianti davanti all'NPC con la macchina mentre in corsa e ti fa investire sapendo che ti avrebbe investito sei? sì andai avanti vai avanti ok f per Giorgio oppure sensazioni illegali magari può essere anche con la con la polizia che un poliziotto ti comunque ti invita ad alzare le mani e tu non lo fai nonostante ti stia puntando l'arma ma io ti ho chiesto senza armi sensazioni illegali ah ho capito sensazioni illegali e basta no no senza armi sensazioni illegali ok grazie a te il follo ricca r1 chiard ricchiard grazie a te il follo niente vede per già lo sai grazie a te il follo anche a te benvenuto altri esempi insomma sensazioni illegali malox figlio di mezzo grazie a te il follo benvenuto il canale hai 600 ore di rp significa che bene o male le basi quindi di conseguenza ci vediamo domani ma quali altri esempi c'erano? il no fear non lo deve vedere solo sulle azioni illegali o sulle armi ci sono tanti tipi di no fear all'interno di imper abbiamo gli animali gli animali selvatici già potevi farmi due tre esempi solo lì ciao christian moda buongiorno prima di giocare cioè nel regolamento non c'è scritto io mi baso sul regolamento questa cosa degli animali selvatici non è citata da nessuna parte ma non c'entra essere citato cioè comunque nella vita di qualcosa avrai paura non penso che tu nella vita reale hai paura solo di una pistola se qualcuno ti rapisce no però io non so nel server nello specifico che cosa ci sia di animali grazie per il polo christian moda benvenuto ho citato quelli che comunque mi venivano in mente raga ma voi staff potete di fare degli esempi ma se sono esempi non ci sono come facciamo gli esempi devi saperli fare in base alle esperienze rp e appunto dovete inventarveli ragazzi come si dice gli esempi appunto vengono fatti perché devi farli tu di tua scelta di tua invenzione noi ci basiamo solo sulla conoscenza del regolamento ma anche sulla conoscenza del roleplay cioè le basi quando noi chiediamo le basi per vdm rdm no fear power game fail rp metagame noi ci basiamo anche su quella che è l'esperienza avuta il regolamento generale è un altro discorso quello è importante che tu lo sappia perché sono regole di impero ma le basi sono proprio le basi del roleplay di 5m sì però comunque cioè a parte gli animali che altri esempi c'erano così me li imparo perché comunque uno ok che non è non la capite bene che si fa mi potete spiegare in che senso Cristian di forum drive o di group street group street è una zona malfamata però quella è un'azione perché dovresti avere paura perché comunque ci sono criminali però tu hai detto sensazioni criminali cioè appunto c'è un'azione illegale in questo esempio secondo te eh certo perché comunque il poliziotto si è a paura no perché il poliziotto allora qua non c'è non c'è non si tratta di essere un'azione illegale se un poliziotto va a farsi un giro di controllo ti dico qua in stanza hai due poliziotti io e Dani può succedere che magari imbocchi una strada sbagliata e ti ritrovi appunto in un ghetto non è detto che debba succedere qualcosa di illegale però ti ritrovi a passare per il barrio magari al barrio ti ritrovi che ti accerchiano e quello è un no fiar anche se non hanno armi in mano tu comunque sei in una zona malfamata se tu hai paura cioè non è detto che tu non debba urlare la paura solo perché sei là perché magari può esserci un motivo in rp perché sei là magari anche al di fuori del quello è un altro discorso se sei per altre situazioni è un altro discorso però un poliziotto da solo all'interno di un ghetto non è mai una bella cosa no però non ci vedo molto il no fear cioè sinceramente non non lo capisco vabbè puri ci vediamo domani mi raccomando trova qualche esempio di no fear power game ci siamo cioè te li ho suggeriti io nel caso ti verrà ti verrà nuovamente chiesto il power game almeno già hai qualche input va bene bene va bene ciao bello ciao eh eh c'è non già era uscito danni eh non già era uscito eh sì per qualche secondo comunque franci gamer 90 cazzo del follo non è franci quanto guardo sto man eh in cosa questo è il mod è un server questo qui è un server discord sì eh c'era già prima sì no eh vabbè 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 perché forse vediamo un attimo è nuovo quindi magari non ha compilato bene i mod adesso vediamo subito eh esatto non ha compilato non ha esperienze RP e non ha compilato il background lo sposto vediamo faccio io ciao Manuel ciao Manuel ci sei? Manuel sì sei dentro ciao ci sei? Manuel vabbè no perché forse è un'altra persona pronto ci sei? ciao chi era l'altra persona che sentivamo nella voce? chi era l'altra persona che si sentiva ma giochi tu o gioco a tuo fratello? no lui non può giocare perché la voce è troppo bianca ok quindi mi raccomando se vuoi fare la what is tu la vuoi fare perché tu la voce bianca non ce l'hai ma a tuo fratello non può giocare ok altra cosa vedo che non hai esperienze RP e devi compilare background quindi purtroppo chi non hai esperienze RP non può fare la whitelist momentaneamente la potrai fare tra un mezzetto ok devi fare prima un'esperienza RP sul server no whitelist poi vieni qua e fai la whitelist ok ok a posto allora ci vediamo ciao perfetto si muto la live perfetto e già sono finiti qua no internet world fortunatamente comunque grazie per il follow a fior 500 e all'apix 195 benvenuti l'apix ormai è ovunque allora vediamo un po' la chat ragazzi vediamo un po' qua ti ho la oi staff come come avete che sono che sono che se uno sta leggendo capiamo quando risponde troppo perfettamente alle domande come saranno sull'evolamento oppure quando magari non risponde soltanto alla domanda ma ti risponde dopo poco perché va a cercarsela comunque sono tattiche un po' ti fai la mano adesso su The Real Phil se torna The Real Phil bisogna farlo tornare con l'account originale di ecco però devi avverti che non sposti la gente cioè non puoi spostarla così non aver paura tranquillo comunque di solito se capisco qualcuno sta leggendo dico che abbiamo i log del regolamento e posso controllare esatto ma è vero e niente saluti la scrimer che ormai non non caga più facendo la stufa di imperdo o l'apix lo so sono un po' impegnato qua dice che non riesce a smutarsi vabbè allora di lì che deve smutarsi vi sistemare questa questione spirits 15 anni lo sposto intanto tu tanto manda via la Real Phil però li metti in attesa ciao spirits ciao ci sei? perfetto e guarda devi quanti anni hai? vedo che hai due giorni di esperienza RP vedo devi avere meno di un mese di esperienza RP ok e devi anche ampliare devi anche ampliare il background ok almeno di 2000 caratteri ok a posto ciao po 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 grazie al follow a la E05 benvenuto grazie al top lo spam controllo rocket ragazzi ogni tanto muto vuol dire che è muto perché ho paura che mi sparano una parola bannabile quindi muterò la live ogni tanto sappiatelo quindi se vi sentite il commentato non sentite che la gente che parla è per questo motivo quelli nuovi solitamente oh dio questo che aveva 12 anni nel 2020 adesso lo spostiamo se la sto rocket muto la live ragazzi perché una voce sicuramente sarà lo sposto eh 321 ciao rocket quanti anni hai ora perché l'ottobre 2000 novembre 2020 9b12 io leggo qua menzioni menzioni rocket diventato fino a compilare dell'età minima consentita tra parentesi 12 mo vediamo subito età 15 anni non è compilato neanche la background ti muto un attimo secondo me non è neanche voce bianca neanche tanto bianca è al limite io direi che uno aspettiamo aspettiamo facciamo aspettare anche un altro mese oppure li diamo a posita a me no ragazzi per il follow quindi ok glielo diciamo adesso guarda rocket guarda ancora c'è la voce bianca un po' ok idea di aspettare un altro mesetto all'incirca e poi dopo torni a bene a posto ciao dimmi dimmi sì devi fare tutto background e modulo wireless ok ciao allora allora ragazzi di creare i thread perché stanno vengono creati i thread in continuazione in ruoli ora fare solo un amministratore di discord no solo gli altri in discord chiedi gli altri in discord già l'hanno chiesto è tornato a mano è tornato manuel eh si lui c'ha non mi ricordo se è questo o un altro no manuel deve fare l'esperienza di B comunque rosario 925 vediamo un posto rosario allora non ha compilato nulla lo sposto eh ciao rosario ciao rosario ci sei? ho rimandato deve compilare ho due wireless e found pg si intanto io ragazzi tanto lo tiro intanto ne faccio poche io quindi l'avviso le lascio tutte a buio volentieri no no e porterò le live sempre quindi ci sarò per le live e rosario non ti sentiamo si sentiamo di prendere il microfono compila i moduli e torna buona giornata comunque grazie per il follow a aspetta che tolgo il mutato ciao e bobby grazie per il follow comunque a gino buon vino e a greg 1906 grazie per il follow mi saluto il vice grazie per il follow non so che sicchi è il vice di brigadiere totò fly non sono 05 sono 02 come che 12 anni colpa tua tu hai messo danni 05 ma che 05 è il mio numero preferito ah 05 proprio senza solo 5 no 05 si esatto questa cosa un po mi puzza signor Dani facciamo un controllo facciamo un controllo mi di i suoi documenti grazie ho la matricola grazie cos'è un fermo stradale? scendo e sparo no scendo e sparo prima c'è la capriola una capriola super potente madonna l'altro giorno mentre che stavo in live ho detto ora faccio una super pit porca tre ho pit oh elfo ciao elfo buongiorno ciao davide slash mi ruola una super pit Dani ora clip in cui c'è la mia world seguite la mano a te e mandamela in privato poi dopo la guardo a fine live vuole entrare in polizia e fa il bando quando apriranno c'è Aaron in attesa si adesso lo spostiamo subito deve aspettare allora spostalo se devi aspettare mandiamolo fino al tempo in attesa ciao Aaron 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 ciao sono in live ok ascolta tu sei stato rimandato di 24 ore esattamente ieri sera alle 23 e 40 comunque così ti sto volando vorrei chiedere se ti rispondi giusto un minuto in privato che mi hanno detto di iscriverti se voglio essere la polizia e Gino Brunvino gli chiederà un tuo superiore di chiederti a me di mandarle il discord io non li mando quelli nuovi ciao Sam ciao Nemesis tra quanto tempo farai ancora le white e beh finché sto qui sto qui poi vediamo e questa cosa un po' mi preoccupa cosa? pannello? vediamo un po' chi è sto pannello qua con prima muta la live vabbè certo pennello non ha fatto nessun modulo no no l'ha fatto l'ha fatto pennello ha fatto quel ground e basta adesso l'ho sposto 3 1 ultra live 3 1 ho pennello buongiorno ciao caro senti stavo guardando non è compilato il modulo white list e il background non è abbastanza lungo per le richieste di 2000 o 2000 caratteri ok? quindi ampia il background compila il modulo e poi torna tra 5-10 minuti appena l'hai fatto ok? a posto ciao white list fast del mondo va aspetta che è venuto la live just silent tv grazie per il follow benvenuto o pennello ma Daniele parete maresciallo di bigata è addirittura Antonio Bassallo grazie per il follow il background forse è troppo corto quello di toxic ma se mi perma non devo rifare se mi perma non devo rifare il bg è certo p2 federico grazie per il follow comunque v real messina vabbè bobby mettiamo anche world's gamer a pennello rimanda white list ai mamma mia ragazzi adesso scrivo così ma sei 2005 no non sono 2005 adesso il titolo lo cambio in non sono un 2005 ma sei 2008 infatti no sono 2002 sono 2002 io sono 2021 mi sa t'ora 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 che il bello banno lecce ma come banno lecce hai la voce bianca già hai la voce bianca poi metti 35 io la voce bianca va bene bianca ma bianchissima si ma dai in bianchino no no ciao 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 abuso di potere abuso di potere felix cas aiutami il follow comunque marzo 2015 no sono 0 05 è perché il giorno della mia nascita cioè 05 marzo 2002 il titolo come titolo ci sta banno faccio bannare lecce ma lecce è già bannato per quanto mi riguarda poi come questo è una cosa che non ne parlo in live quindi se lecce è bannato meno questo non mi riguarda in live quindi ci hanno già discusso ieri ok ora attiva la web free lecce free lecce no no si è perso i mondiali del corea 2002 no no tu sei tu sei fissato questa cosa del calcio se ne esce così perfetto è grande real messina perché se due così se non ti rompono i coglioni ma parla che uno come me non lo trovi da nessuna parte ma sinceramente non mi serve non ci sono solo brutte copie fatte male sono dei fake messina no sono dei fanboy col cazzetto allora devo sbannare un po' di gente buon divertimento metti metti a 20 sub sbanno lecce no comunque non è stato bannato lecce l'ho fatto per si è fatto per bannare per insulti gravi insulti allo staff e altre cose che non so dire carimo carimo 5m cazzo di follo e anche a foschi y cazzo di follo cazzoli di cosa ho riso che dire 20 sub sbanno lecce no non lo sbanno cioè ragazzi che non siamo che se mi faccio pagare per far sbannare la gente dove siamo arrivati adesso no no mi è arrivata perché so ma mi ha risconnesso e dopo torna quanto tempo ti hanno rimandato per fk non mica ti hanno rimandato per giorni ragazzi di follo a lori quali 89 e a professor piton ma oltre vuole porti un po' di rp si porto anche un po' di rp dipende dalle situazioni una volta all'anno i'm xanzi grazie di follo benvenuto no no porto l'rp anzi quello che deve facciamo il sondaggio nuovo sondaggio vi spiego io un rp oltre a fare il tenente oltre a fare il tenente ok cosa faccio faccio anche il giudice in rp ok e adesso apro un sondaggio volete che porto in live anche l'rp con il pg da giudice adesso che siamo un po' in live vedo che siete un po' a guardare a live votate non possono permettere un giudice un pg cioè un pg finto votate se volete vedere il giudice in rp in live fate ma dove vedo il nuovo regolamento pula nella stanza regolamento qualsiasi elfo secondo te si porta licenziamenti e lui mette richiami perfetto licenziare come te tarec esatto si ma da giudice cosa fai scusami i processi faccio un po' ogni tanto faccio un po' di rp cioè dipende faccio nei processi si faccio i processi in rp poi dopo magari intanto vado un po' in giro con la skin da giudice danni ormai manco i colloqui fai lascio fargli esperti i coordinatori si è rotto si no non è che mi sono rotto semplicemente ne ho fatti fin troppi che mi è scandalo orecchio uno il carun grazie del follo crown grazie del follo esatto for real eh si esatto quindi io licenzio metto richiami come a te come a te licenzio da te esatto esatto mi sono anche divertito devo dire dopo la risposta che mi hai dato a bonnie ciao bonnie anna grazie del follo benvenuta mamma mia non avevo ancora messo il follo ma tutto sto tempo che streamo mamma mia mamma mia prossima live wallace per sminiti richiami a a pallone a diciamo no io non metto tanti richiami più wallace ciao zu tren ciao buongiorno sembra strano parlare su discord con voi e rispondere a una chat mi sembra un cretino no tranquillo ora ci mutiamo a parlare da solo no no tranquillo ci mutiamo a parlare il muto così non sentite parlo da solo ale 99.05 grazie per il follo benvenuto grazie grazie per il follo grazie il follo grazie grazie magari con amazon prime l'abbonamento è gratis ti seguirò quando l'inni ha sventato in negozietto mi ricordo si adesso è politissimo c'è qualcuno che è recente a sparare è certo tale che mi chiedi tu l'unica spara per sparare ma perché messina non sta streamando messina perché non sta streamando mi chiedono i miei perché messina non sta streamando perché messina c'è il cazzo piccolo perfetto metti il ptt a sto punto no ptt non lo sopporto bonni non sto streamando perché a parte che la mattina mi sto svegliando tardi quindi è normale no intendo oltre a lecce oltre a te a lecce ci stanno molte tante altre persone a sparare terec no no raga scusate stavo a ridere perché stavo aspettando l'inseguimento e l'hanno cioè hanno fatto una manovra box alla polizia che è stato fottosamente epico peccato che tu ti sei perso la pit che ho fatto io due minuti prima è il momento della super pit di solito quando dico la super pit è una cosa ironica perché non la faccio mai mi chia fatta apposta lo prendo da dietro madonna l'ho fatta arrivare in fondo alla strada con la macchina che cappottava sottosopra divertente davvero veramente divertente la pit più bella del secolo fantastico cazzo mostruoso ma io sinceramente mi sono un po' rotto le palle interessante davvero sono due persone in attesa oh grazie di follow alessandro grilli 18 benvenuto ti saluta il tuo top il tuo top pip al 29 05 quello là acqua è stato rimandato per voce bianca la sua follow sim 000 e anche rikzar 188 benvenuti 4 giorni fa è stato rimandato non penso gli sia cambiata la voce in 4 giorni spostiamolo vediamo un po' gusto ma è che il record vale uguale a 14 giorni senza fare cose illegali sì perché ci sia poliziotto vale no non ho 16 anni ho 19 anni comunque vedo che con 23 voti vince il sì portiamo a rapida giudice perfetto quindi domani sera ho i processi domani sera ho i processi porterò quindi i processi con il giudice portare i processi con il giudice che cosa cringe sta sentendo ora in whitelist ah e comunque porterò la rapida giudice sì comando per l'età adatto a posto ciao ciao bello ciao real perfetto è stata un po' cringe come cosa anko anko 1962 ragazzi per il follo nuova come giù come guardia vediamo ho la voce moddata sì di la verità che utilizzi un modificatore dai ma in realtà non uso nessun modificatore cioè anche se uso il clownfish tu riconosci subito la mia voce non so perché ci ho provato che sono sì fosse diventando un full role player in questi giorni ma era una tipa no era un bambino con la voce bianca un ragazzino con la voce bianca non credo la guala è difficile e la guala è difficile a seconda di quanto studi cioè devi studiare bene e allora sei pronto altrimenti no adesso non panicare ronde sciva come ho appena perso un LR ebbene che hai detto ma ragazzi quindi il 2000 che copia spudolatamente il bg di giuso cioè identica è copiata sia data il nome tutto ma veramente quindi Sto spostando qua William Mill Ok spostalo 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 Grazie di follow comunque Boomaster benvenuto Ciao Parla un po' William Si presentati Vabbè togli il modificatore vocale E poi parliamo Si è proprio palese Non lo sento Ciao Quanti anni hai? Come mai hai aiuto da modificatore vocale? Però qui ho fatto un grasso errore Perché prendere in giro lo staff Mettendo modificatore vocale Comporta a negarti la whitelist Già Cosa dobbiamo fare? Dobbiamo negarti la whitelist Come abbiamo fatto tutte le altre persone Eh beh Purtroppo Dobbiamo negarti la whitelist Mi dispiace Facciamo che torni Magari quando ti cresce la voce Ok Ciao E niente F Scrivi lì Momentariamente Non idoneo per voce bianca Scrivi lì Faccio io Ragazzi la gente prende per in giro lo staff La gente non può fare la whitelist Va bene Grazie per il follow Bianco City Benvenuto Buongiorno Ma devo mettere pure Bobby Comunque tu hai un po' la voce bianca A fare che io Ho un po' la voce bianca No Perché a 19 anni è impossibile Avere la voce bianca A livello proprio Scientifico Magari non ho una voce Come quella di Messina Perché non fumo Ma Cioè Quindi Cioè Oh ma che cazzo volete Però Cioè Non è bianca Come quella di un bambino Anche se dovessi farla well Metteremo il modificatore Metteremo il cicchetto di voce Mi sembra Di un bambino A me mi sembra di un bambino Eh però Non puoi Ciao Dario Buongiorno Oggi devo fare il provino Per entrare nei pompieri Speriamo bene Ah Speriamo bene Dai Dai Comunque Tarek E Amin Avete un nickname bellissimo E' ritornato Pennello Che non mi pare Abbiamo Cioè se abbiamo visto Tra un ragazzo Cosa c'è di che E' iniziato a cambiare voce Eh vabbè Ma dipende Boh ma io già a 16 anni C'ho più o meno Stavo c'è qui Beh ha dato senso E Spoh Ci sono gente Con la voce bianca Nel server Sicuramente non è colpa mia Ecco C'è chi le wait Lista Per Quando non dovrebbe Una cosa Pennello L'abbiamo rimandato prima Ma non ha modificato Niente Non ha ampliato Dicono abbiato Te Messina Fai la voce Così in chat Ti faccio impazzire Vero Dani Ok Sto spostando Pennello Viva Messina Tato Spam Posso spostare Dani Vai spostalo Spostalo Pennello Oh Fake ade Grazie Grazie per il follow Fake ade tv Grazie Fake ade Ah le grazie per il follow Benvenuto Luciano Il muratore Grazie per il follow Benvenuto Io ne ho 26 Mi scambiano per un 17enne Ehi addirittura Io già l'ho controllato Sio P1 Grazie per il follow Benvenuto Devono essere 2000 Min Allora Facciamo così Ora vi faccio Aggiungo tipo tre parole Tre parole Non Va a 1600 Perchè a me diceva Perfetto Che ha nato completamente il nome Fake ade Perfetto Fake ade Comunque benvenuto Devono essere almeno Abbastanza scarno Leggo un cazzo In questo background Perché muto di fretta Almeno altri Fake ade tv Grazie per il follow Proprio Scusami Cosa hai fatto Nell'infanzia Durante la crescita Mi ho 22 Che ne ho 30 Beh quello non lo so Perchè quello comunque Un po' il comportamento Un po' scritto Giusto perchè No è un tuo fanboy Si Scommetto Guarda Non so quanto Niente Guarda Che dentro Nel mio fanboy Da mi odi Tanto da insultarmi Ti ho postato Anche la scaletta Così Devo fare un po' Di piccolo smith No Mattia Non faccio Ecco vedete Ho scritto Non è che ti ho insultato Però mi odi Mi odi E poi NRP mi ha insultato Tanto Mi è andato a fanculo Però penso Tu mi odi In quanto Mi mandi un po' Di frecciatine In chat Devo dire Ho notato un po' Di atteggiamento Di frecciatine Secondo me Dentro dentro Un po' Mi odi Per il fatto Che ti ho licenziato Dalla polizia Va bene Va bene Ritorno tra qualche minuto Allora Va bene Va bene Ognuno 19 Mi dicono che Nel 19 Perfetto Allora Allora Rimandiamolo Rimandiamolo Vedi già Lasgamer è Basta Tre volte Allora vedi che Furiel Non sono tossiche Vabbè ci mancherebbe Che Real Fossi tossico Lui è una bella voce Chi è una bella voce Che mi ha detto Che sono tossiche No non te Real For real Gli hai bannato Anche l'amico Se volete Vi faccio sentire Il mio vero Lato tostico No grazie Cosa ne pensi Di Lecce 02 Lecce 02 Penso che si meriti Quello che si è preso Quello che si è preso Il licenziamento Dalla polizia E poi Il Per Marban Adesso vedremo Se verrà Verrà Diciamo vedremo Se verrà Fatto o meno O banner Da oggi te lo giuro Che diventa Tu fanboy Bene bene Tarecca Allora Non vedo Posso spostare Emi Per il background L'ha rifatto Che un po' Posso farla Gua Spero Spero va di bene Speriamo Sto spostando Emi Vai spostano Ciao Emi Ciao Sono in live Un problema Mi è un problema Se facciamo Una wireless Mentre sono in live Su Twitch Va bene Posto Mi raccomando Utilizzare le parole Console Ciao Cosa ne pensi Penso che sia un No Sei tu Quindi Cosa devo dirti Ma si può sapere Cosa ha fatto L'Apix Ha fatto cose brutte Diciamo che Ha detto parole Diciamo Ha insultato pesantemente Delle persone Tra cui Appena posso Mi metto Il nick Tarek Fanboy Di Dai Oh mio dio Tarek No Niente cringe Poi dopo Io lo so Che diventano Nuovo Lecce Tranne Pura Beh Un insulto Se usi In modo Scorretto Giocavo A forza Prima Però Dato che Il computer E niente Tarek Stavo scappato Alle guardie Ho un vestito Un po' di ragazzi E mi hanno segnalato E mi hanno Bannato Ha detto La F-Word Comunque A me E ad altre persone Allora Che cosa Che tipo di roleplay Vorresti portare All'interno Di Impero Lì c'è Un player di Impero Che ha Dato la F-Word A qualcuno Del server Astro Win Grazie per il follow E anche Budino Buono Benvenuto Grazie per il follow Da quant'è Il server Un paio di mesi Un po' di Un whiteboard Non scherza Un whiteboard Non perdona Sì sì Più o meno Però ecco Devo cambiare Computer Perché Ho problemi Di Ti posso chiedere Da dove Ce l'hai GTA Da Su rock Su Steam Sì Ed è Big Game Eh sì Perché mi ricordo Tipo Due anni fa Lo regalavano Sì Per una settimanella È stato In offerta Allora Quindi Che tipo di Realplay vorresti portare All'interno di Impero Legale Illegale No Legale Legale Vorrei trovare Lavoro Comprarmi appartamenti Ste cose Magari fa Qualche Bando Serio Vedremo Dunque Definizione Di Power Game Power Game Significa Non rispettare Cioè Fare tipo La vita reale Nel senso No no Senza Penso Lo devi sapere Grazie Il follow Mick Clinic In realtà Non conosco Bene Le regole Le regole Ma non conosco Bene Scusate Ma da Nesta Mi Prova Che ne Pensi No Penso Che se lo merita Non penso Che lo merita Perché Ci ha provato Tanto Ci teniva molto Secondo me Si venite Di entrare Nello staff E per la posta Potere stare Nello staff Flyent 02 Grazie per il Follow Benvenuto Quindi Cos'è il Power Game Power Game E' una cosa Che non mi In poche parole E fino Alla Ci eravamo Arrivati Ma mi serve La definizione Non lo so La definizione Va bene Allora Ci vediamo Domani Va bene Perfetto Rimetto in attesa Domani Allora Oh Toretto Grazie per il ride Con sette persone Grazie mille Buongiorno a tutti e sette Benvenuti Ho detto che aveva GTA Da Steam A 0 ore E in effetto È nuovo Lo Steam Su io Ha un anno Il suo Steam Grazie per il follow A MarteFPS1 Adesso Mi sono perso Un anno e nove mesi Grazie per il follow A MarteFPS1 Grazie per il follow A DareTombo09 Benvenuti L'account Risale ad un anno e nove mesi fa Ma lui Non ha mai A 0 ore Di gioco Quindi non Parabuti Non so dove abbia fatto Secondo me Mi interessa di diventare Adem Perché Nel di chi va Interessando a tempo Lo staff Addirittura Admin oddio Collagerato Tanto adesso sto per diventare Moderatore Quindi vediamo un po' Gab passate 415 Grazie per il follow Deve mettere l'obiettivo Del background PG Iero alle 19 Sì Ma ho detto A team A per ragazzi Sentite qua A team 7104 Ma rimandate La gente con la voce bianca Che magari Se tutto regolamento E poi fate la WL A gente che non sa manco Powergame Ragazzi La WL È stato rimandato È stato È stato rimandato 24 ore Attenzione a quello che si dice Ragazzi Comunque questo ragazzo qua Che c'è ora in attesa È uscito Oppure è rientrato Dal server Era stato rimandato Sì il background Dei 2000 caratteri tirati Cioè Non so Lo sto spostando Lo sto spostando Eh già non c'è più Ah Minchia Sono veloci Comunque È troppo co C'è Il background Ma sono 2000 Sì 2004 Sono 2004 Precisi Resegatissimi Non ho la lettera in più Né una in meno Vabbè Ci saranno 4 lettere in più Basta Giovane stella Youngstar Io Basta Capire lecce Oh mio dio Allora Giovedì Grazie per il follow Benvenuto E anche al loro numero 2 Grazie per il follow Benvenuto Oh Giovedì Giovi Oh mio dio Avete visto che figo Che è diventato Phasmophobia Ora No non l'ho visto È diventato molto Che figo No ma Caluso Già non l'avevamo rimandato A noi Scusatemi Il toccante di Steam Quanto importa Il toccante di Steam In che senso Flavia Oh tenente Oh Giovi NixarTV Grazie per il follow Benvenuto No no Ma Caluso Già l'avevo negata io Insieme a Franci e Dani La Per omertà Non è dono A Macaluso Si è ripresentato di nuovo Ma già gliel'avevo negata io Ciao No dobbiamo fare la guardia di gruppo Possiamo fare E devi chiudere al ninja O Lolo numero due Da quello che so Ha detto che non se ne sarebbero fatte più Poi non so se Che figo Madonna Quanta luce fa sto coso Prima non lo faceva Mi ricordo del vecchio aggiornamento Faceva cagare Ma non è fasmofobia Ma non è giunto pure Sì Il vecchio fasmofobia Faceva cagare Adesso l'ha migliorato un sacco Finalmente Era ora Ma la candela La puoi anche appoggiare Adesso direttamente Prima te la faceva buttare per terra Come se era un sacco di patate Era ora Madonna regà Io ci ho giocato al solo livello 400 All'inizio Quanto tempo l'hai creato Non lo so come si faccia sapere Io ho un metodo un po' complicato Ma per che cosa Per l'account di Steam Mi chiedono come si fa a sapere Da quando l'hanno creato Beh io C'è un sito per Sono i siti comunque Per cosa Allora Lollo aspetta che ti risponde Ninja Siamo a BanoGTAC In questo momento Ed un page 18 Quindi ripassa Vuoi la prova Qualche altro server Non ti posso dire io In che senso Vabbè Boh Tarek Io non distingo L'OC dall'IC Infatti non ce l'ho con te OC Infatti Chi ti ha mai detto nulla Non ti ha detto mai nulla Su di te OC Tarek Ho solo detto Che l'ARP Mi ha insultato C'è da mio coglione E quant'altro Quindi Mi aspettavo Che tu magari Ce l'avessi con me Anche fuori Per il fatto Che ti ho licenziato Dalla polizia Ma non ho detto Che ce l'ho con te Ho intuito Che tu ce l'avessi con me C'è Sir Danger Di nuovo Quello dei 2004 Caratteri Ehi Ci sarò un coglione Occi no Eh ok Dobbiamo dire Di Aspettare Un attimo Per il controllo 2004 Ne ha È un po' Risicato Risicato No Andiamo Dani lo sto spostando Vediamo Ok Ciao Sì Ciao sono in live Il problema è se facciamo la roba in live Tutto in live Ok Tutto bene ragazzi Sì Non c'è male Ti ringraziamo Bene Stiamo rispondendo Tutto bene Tutto bene Un po' agitato Ma tutto bene No perché agitato Eh diciamo un po' di Eh No vabbè Cerco di rilassarmi Dai Sì è una conversazione Alla fine Tranquillo Non è un'interrogazione Seedanger Vediamo un po' qua Marmarci un po' del tuo personaggio Cosa vorresti fare Che cosa vorresti trattare Legale Illegale Allora Principalmente Illegale Io l'avevo messo prima Un altro BG Solo che ho deciso di cambiarlo Eh Perché sinceramente Questo qui che ho scritto Nuovo Mi piaceva un po' di più Eh Diciamo che principalmente Una cosa che mi piacerebbe portare Tipo La criminalità Coreana Stilizzata però In America Fatto tutto stile Comunque americano Quindi Con origini Che vanno dal coreano E pian piano si trasformano In un mix tra Eh Criminalità Criminalità Coreana E americana praticamente Quindi questo mix Qui Da quanto tempo fai RP? Allora Saranno circa Un paio d'anni Sì Circa un paio Un paio d'anni Ho fatto un po' di RP In vari server No VL Pure in server VL Però Diciamo appunto che Non Non lo faccio Un po' Da un po' di tempo Eh Voglio ricominciare a farlo Seriamente Quindi vorrei Entrare qui Su Impero Per fare Un certo tipo di RP Eh Insomma Questo principalmente Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Sto ricontrollando ora Il modulo Whitelist Non è completo Sì Il modulo Whitelist È un po' Scarno Dovresti completarlo Un po' Di più Tipo mettere Vedi come hanno fatto Gli altri Che hanno messo Nome reale Età Nome del PG Età Esperienza Come hai conosciuto Il server No Non ce l'ha scritto No Non l'hai scritto Eh no Più che altro Nome Steam Riccardo Il mio nome Età 21 Link Steam Esperienza Circa un anno E poi Appunto Ho scritto In vari server No VL VL Come è conosciuto Il server Live Il problema È che l'hai scritto In the ground L'ha scritto In Modulo Ah Ah ok 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 Allora ho fatto Questo errore Non sto taglierdando La chat Ragazzi Allora che faccio Lo metto adesso Che magari Iniziamo Le domande Aspetto subito Poi una domanda GTA Ce l'hai da Di Steam Ma chi sa Il ragazzo del follow No ce l'ho da Rockstar Il ragazzo del follow È venuto Però Il RPG È storico Deve rimanere nella storia Rimarrà sempre tale Le varie robe Tramite Steam Poi quindi Ce l'ho su Rockstar Però comunque Gira sempre tramite Steam Ok Da quanto hai detto Che giochi? Eh Saranno circa Ormai Un paio Di annetti Ovviamente Diciamo che Per un periodo Appunto Ho abbandonato L'RP Però comunque Le cose Importanti Me li ricordo Sempre Ecco Le basi Ok Ok non è sì no? sì ti dovrei mandare una cosa secondo me è rotto quello che mi hai mandato ma non funziona ma a me funziona su altri funziona cioè spuntano non funziona bg? no no forza di cose buongiorno buongiorno è bannabile quella parola no ho banato rec su sto sito dovrebbero spuntare ma che sito stai usando? steam id steam id pro sì no in teoria non c'è sì ci sono le ore di gioco cioè spuntano per quante ore ha giocato e cose varie ue 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 ciao winx spuntano però con lui zero ore non hai venito da un'ora ai dieci su steam dovrebbero spuntare che io non so se vedi a un altro sito per vedere ho miscliccato dal sospendere c'è da cancellare il messaggio a sbannarti no ma nemmeno a me dice una richiesta di sbann che ne fanno nel senso vediamo come si comporta è male che va ok rieccoci qua ok eccoci qui allora hai sistemato il modulo? eh sì sì l'ho rimesso in modulo whitelist ho messo il mio nome steam tutto quello che avevo messo appunto lì però l'ho rimesso qua praticamente chi è questo che mi scrive così? ti posso dire una cosa j s j s n s s n s ok Tarek puoi scrivere in chat ora prova a scrivere ciao 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 vabbè scrivere Tarek vabbè vabbè andiamo avanti che è meglio va eh definizione di power game allora power game la definizione proprio vera e propria sarebbe quando sfrutti delle meccaniche di gioco che a livello di rp non sarebbero eh come dire conformi quindi ehm esempio o comunque in in non sarebbero realistiche quindi in senso una ferrari che sale una montagna un free track per un po' in Italia del 5 appunto ripidissima non sarebbe possibile oppure un altro esempio mettere un altro esempio senza veicoli è mettere 3.000 cose nelle tasche un sacco di cibo un sacco di mi fai 5 esempi senza veicoli senza altezze vediamo se passa la guai adesso ragazzi ho avviato il pronostico votate power game eh senza veicolo può essere mettersi ad esempio tantissime cose in tasca senza avere che so una borsa un borsone non sarebbe realistico un altro esempio sarebbe portare giurega ragazze del follo più di un'arma è venuto sul canale a canna lunga ci potrebbe essere anche esempio un fattore una massa non fare tutto in rp quindi uscirla così da nulla ricreare un fattore rp che la prendi esempio da una macchina o cose del genere con il buone si fa la guai se lo è sicuro come un altro power game ma principalmente sono questi qui che sono i più importanti appunto che limitano a meno rubare ciao ci vediamo possibili in vita reale a meno rubare ciao dopo un pranzo no fear serve appunto quando non si vuole la paura sempre appunto not smash 01 grazie per il follo non mi ha avuto in vita reale quindi una situazione che generalmente in vita reale ti metterebbe paura quindi se sei puntato con una pistola in testa e appunto non hai paura oppure lanciarsi da una scalinata senza paura di farsi male tipo saltando una scalinata molto alta senza paura di farsi male oppure lanciarsi da un veicolo in movimento scendere da un veicolo in movimento aprire la portiera e lanciarsi così senza paura questi qui appunto possono essere esempi di no fear mi fai 5 esempi senza armi senza azioni illegali appunto come ho detto lanciarsi appunto da un esempio da una scalinata per magari che so andare più veloce senza aver paura di farsi male o buttarsi da una macchina in movimento qual è altro può essere un esempio comunque anche diciamo saltare certe altezze appunto fare dei salti tranquillamente perché non hai paura di farli perché comunque per te il dolore non è reale cose del genere insomma mi fai mi dici qual è l'uso dello slash me che cos'è slash me principalmente appunto se vabbè questa diciamo è una cosa che lo slash me viene utilizzato anche molto spesso per far esternare pensieri ma in realtà secondo me è errato perché lo slash me non dovrebbe essere usato per i pensieri ma lo slash me in realtà è semplicemente un'azione che serve per mostrare qualcosa che fai quindi esempio prende il telefono dal tavolo slash me prende il telefono dal tavolo secondo me non ha senso lo slash me pensa che la persona sia stupida esempio per me appunto lo slash me è una roba che riguarda soltanto le azioni che fai in rp quindi quando vuoi prendere una cosa e lo vuoi simulare in rp quando vuoi svolgere un'azione esempio tocca la spalla un amico quello può essere l'esempio appunto di slash me per rapire un poliziotto ci vuole il ticket per rapire un poliziotto no se lo so conosco 30 minuti appunto perché avete possibilità di pensarci durante la white list di vedere come si evolve a votare più o meno punti di qua o di là e poi lo disattivo poco prima dell'esito per assaltare la centrale di polizia ci vuole il ticket eh si no eh semi semi safe zone magari non ci vuole si ok essendo una semi safe se ci sono delle valide motivazioni si può assaltare la centrale di polizia ok allora niente mi sono che l'ho confuso le cose allora per assaltare i locali ci vuole il ticket no sei sicuro perché la risposta in realtà era sì ah ok 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 quindi saltare i locali ci vuole il ticket ok ok bene eh allora l'ho trollata un pochettino tutta questa cosa qua ok quali sono le zone safe della città le zone safe allora vabbè l'ospedale il negozio di vestiti è messi nel severo ragazzi mi pare anche il negozio delle maschere cazzo di follo Alessio 89 86 benvenuto non ha senso perché appunto vabbè là è un fattore maschere quindi ok poi mi pare il la cucchiere Aaron 06 1116 grazie per il follow benvenuto sul canale mi pare anche anche mi pare vabbè la chiesa giustamente asovivi 000 grazie per il follow benvenuto sul canale anche a te benvenuto tutti quanti ragazzi buongiorno quali sono le semi safe eh vabbè allora il locale però appunto ci vuole il ticket e la centrale di polizia comunque più che altro vabbè le zone delle forze dell'ordine diciamo ecco che cos'è un'azione free rom un'azione free rom è appunto un'azione che si svolge che si crea appunto da nulla ecco e per le azioni appunto free rom è possibile utilizzare soltanto pistole e c'è c'è appunto un limite che appunto è di dieci persone per i criminali corruzione per gente nel disco e quattordici per i poliziotti si può usare l'elicottero in azioni free rom questa è una bella domanda in azioni free rom ehm ehm sì 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 in azioni free rom cioè in senso vabbè girando tipo per la città per rapire una persona no perché no io ti dico di sì invece perché comunque è un'azione free rom ah ok ok ah quindi vabbè reputabile sempre come azione free rom giustamente sì sì direi proprio di sì che cos'è una zona arancione una zona arancione appunto è la fe per karim sono diciamo le zone delle delle mafie o comunque dei clan in cui appunto comunque queste queste mafie possono cioè possono difendere questa zona ed è una via di mezzo appunto comunque cioè non si può sparare a vista come in una zona rossa però se appunto delle persone assaltare si mettono ad assaltare quella zona o comunque entrano in quella zona così senza motivo si può tranquillamente sparare ecco poi vabbè anche tra l'altro nelle zone arancioni ci possono anche stare mi pare i laboratori tipo di traffico di alcune droghe come il crack o droghe simili nei prossimi giorni leggerò i moduli per dimoderato la zona rossa la zona rossa è appunto una zona in cui è possibile sparare a vista però è sempre consigliabile fare un minimo di IRP ovviamente possono sparare a vista soltanto i criminali mentre la polizia comunque non può mai praticamente sparare a vista può intimare la persona in quella zona a fermarsi e non sparare però non può sempre sparare così a vista raccolta cocaina quante persone e che tipo di equipaggiamento raccolta cocaina allora raccolta cocaina era 8 persone allora 8 criminali e 10 poliziotti ed è possibile utilizzare soltanto cioè si possono utilizzare i caschi no i caschi aspetta si possono utilizzare ovviamente smg pistole lo abbiamo letto il regolamento illegale si 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 è solo che un attimino di oddio un po' un lapsus in questo momento aspetta giusto allora quando riguarda la cocaina è possibile erano appunto giusto 8 persone e 10 cioè 8 criminali e 10 poliziotti e si possono utilizzare non l'SMG ho sbagliato ma le carabine solo le carabine mi dici la rapina al negozietto rapina al negozietto si poteva fare appunto messina è severo ma non è cattivo ragazzi due criminali due criminali ci troviamo all'interno passano 4 minuti io prendo la calibro 50 inizio a sparare esco fuori a terra sia il contrattatore che l'altro poliziotto cosa potrei aver sbagliato in tutto questo potrei seguire aspetta un attimino che non l'ho capito perdonami non l'ho sentito allora durante la rapina io e Dani decidiamo di cercare uno scontro a fuoco quindi io prendo la calibro 50 esco fuori e atterro entrambi i poliziotti che sono fuori cosa potrei aver sbagliato una rapina appunto al negozietto sempre diciamo facciamo continuare a schermo ma che non si può avere la calibro 50 e basta inoltre appunto bisogna fare un tot tempo di contrattazione che era di minimo 5 minuti mi pare in RP e oltre a quello cos'altro c'è? esatto è un prof buono per la digente beh una volta avendo preso i soldi diciamo che vabbè consiglia no vabbè in senso è consigliabile sempre non sparare in questo senso? ci sono due errori metagame e no fear vabbè perché giustamente esci e spari così metagame ok quando si può sparare dal veicolo soltanto con il no fear estremo c'è il senso quando se uno fa no fear estremo appunto con ovviamente con delle prove video si può sparare alla persona in questione come funziona il permadet il permadet appunto funziona che bisogna avere un tot motivazioni per appunto ammazzare una persona a meno che appunto quella cosa significa un tot di motivazione cioè appunto bisogna avere delle motivazioni valide quanti motivi? 10 motivazioni ora ci siamo bisogna appunto avere 10 motivazioni valide appunto ovviamente comprovate tramite appunto delle prove in quel caso appunto motivazioni serie valide e in quel caso si può appunto richiedere il permadet quindi ovviamente può essere tentata solo una volta e poi appunto se se uno dovesse sbagliare bisognerà richiedere richiedere appunto i permadet con delle nuove motivazioni allora ti muto giusto un attimo ok qui vi dico grazie a che fallo vogliate fare qualche domanda non lo so vedete voi per te com'è andato? boh non è andato così male nel senso ho sbagliato due tre cose non se l'è cavata comunque se l'è cavata per me può passare lo scrivo in è andato è andato dai è andato è passato e vai il primo signori il pronostico è completato il ragazzo è passato tutti puntavano sul no perché Messina secondo te secondo 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 la chat Messina l'aveste rimandato invece no Riccardo sì eccomi è il tuo nome giusto? sì sì il mio nome allora niente ho deciso che ti negherò la whitelist perché mi stai antipatio no 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 sto scherzando benvenuto su impero e che dire buon divertimento grazie ragazzi non è che stava leggendo ti ho fatto sudare ho fatto degli esempi buoni ragazzi intanto mi sono sentito un pochettino in ansia perché l'altro appunto l'ansia mi dimenticava alcune cose diciamo però vabbè sei visto che ho studiato dai va bene si è notato l'impegno infatti per quello abbiamo deciso di negarti la whitelist eh di whitelistarti oh no va bene grazie mille raga ciao bello buon divertimento a posto caro dai ciao 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 che meme che sei io son meme beh eh Dani non ti ho letto ma zic non ho letto ma zic ha detto che ti vuole parlare il prima possibile no ma zic tenete d'occhio il singito in sti giorni soprattutto la sera e la notte siete autorizzati a sopprimere e punire ogni azione troll in questa zona dando le dovute sanzioni ma io non sto capendo ma cosa combinano al singito perché Adia ha scritto soprattutto i gang troll hanno capito siccome hanno quella cosa che possono uscire i coltelli cioè loro sono una safe zone vivente che si sposta ragazzo del follo gabbo 18 benvenuto possono uscire messina puntavano tutti su puntavano tutti sul no puntavano tutti sul no ma che pensavo che ne avresti ne andaste ne avresti ne andaste no alla fine è stato bravo non non c'è perché devo dire una stronzata è stato bravo dai eh infatti infatti ormai il singito è inconsolabile ragazzo del follo a tutti quanti in la zona ragazzo del follo a con il predator Davide Culte Gloppi R6 benvenuti ragazzi rimandato da ampliare il background è stato rimandato da mano l'avrà ampliato secondo voi in 15 minuti una domanda se posso farlo ho un po' paura che mi bannano cosa vi indico un po' paura anch'io adesso mi dice così notare che nessuna gang io non so farla per criminale come no così semplice vabbè per me come dovrà sbarcare una seconda volta che vuol dire che l'hanno bannato la prima volta Daniele Macchiati forza di cosa è diventato davvero un troll si è un ritrovo di troll si infatti lo sappiamo ragazzi lo sappiamo ce ne siamo accorti tanto dubiterai dubai dubai tanto dubiterai ha pure fate è andato in live niente va tutti in live si esatto bravi stronzi nell'era piccina la maggior parte delle volte non è fatto con sedità come polizia si è vero vi stavo cercando mazic si ho visto ma penso sia per la questione mi devo parlare appena ci siete si se sentiamo un attimo Dani vattene sono in live adesso un attimo vai via no no a parte che devo andare a pranzo aspetta un attimo Dani ma tu seriamente quanti anni hai? ne ho 19 adesso in questo periodo 19 c'è la voce così chiaro cioè è una voce non bianca non ce l'ho bianca però ce l'ho non ce l'ho un po' si un po' così ce l'ho vabbè adesso ragazzi non iniziamo a andare a dire queste cose la vorresti una voce come la mia ti piacere? la voce come la tua oddio ti piacere quanti anni hai tu? io quanti anni ho non neanche tanti di più eh 22 eh sì 22 e adesso ne ho 26 comunque ragazzi mi sa che adesso stacco ragazzi ragazzi io stacco ora la live vi ringrazio tanti per essere tanti per essere stati con me oggi ho visto che abbiamo raggiunto un gran numero di persone in live vi ringrazio tanto per questo grande traguardo comunque anche 64 follower in un giorno sono tanti tanti spettatori ho visto che vi avete apprezzato tanto vi ringrazio tanto per tutti ragazzi siamo anche in centro attualmente veramente grazie a tutti Kyuxa ragazzi per il follow ringrazio Messina e Les Game per essere stati con me qui in live vi lascio da Strash che porta RP su Impero Officer Cosim grazie per il follow vi lascio qui su Strash che fa RP su Impero e tutto quanto grazie a tutti e buona giornata ciao ciao grazie a tutti grazie a tutti